Benvenuti su Televignole, questa come sai lei non è mai massa tardi, la trasmissione che mi insegna il dialetto non sai e la vediamo spolverata se l'hai smettegata. erano infermi nella lettera O, erano presse. Allora Hobbit, Hobbit è il funerale. Se nemmeno Hobbit puoi dire, purtroppo nemmeno... Olfa, Olfa è l'olfatto, però quando uno dice che non ha Olfa vuol dire che la stufa è un malattico, non deve sennasare sempre la stessa roba. Ungia, Ungia è lunga. Ungia lunga si dice di uno che grata, cioè del ladro. Un po' che è Orbo, Orbo è cieco. Infatti sai che anche la benizione furbi, Orbi, no? Quella che fa il Vaticano. Ovf è l'uovo. Qua sul plurale ovi, ovi, domandini che Carlo Modena deriva che gussa proprio tutti i plurali giusti deriva di arco. Ovi come dicevano. Pacca, pacca è una botta proprio, pacca. Paigola. Paigola è l'ugola. L'ugola. Aver la paigola in teoria vorrebbe dire avere l'ugola. Tutti abbiamo l'ugola. In realtà, aver la paigola vuol dire che la voce... Paigola. Paigola vuol dire digerire. Però vuol dire anche... vuol dire anche patire. Cioè, la paigola è proprio. Il paigola è proprio. Una via la sposa. Una paigola. Poi Paigola. Paigola è il tacchino. No. Basta. Noi non è che copiamo come americani una volta là, cioè... Dai, mettiamo sul pipe nella formella. Dai, che ancora mangiamo il pipe. Paigola. Paigola, che non è quel giocatore francese che giocava nel Milan, no. Paigola. Paigola è proprio schiaffo. E c'è anche la sua roba femminile. Cioè, papina. Ti dà una papina e non ti sberla. Per l'uovo, insomma. Dopo cosa c'è? Ah, patoc. Patoc è, come dice l'italiano, un accrescitivo. Mizz, cioè, bagnare. Paigola. Le deve più che essere bagnare. È proprio essere mai nell'acqua, no. Mizz, patoc. Così come Mars, marcio. Mars, patoc. È proprio la dottoria ormai, cioè, bevissima sola. Paigola. Paigola è gambo. Gambo, questo. Paigola. Paigola. Paigola vuol dire... Paigola è la paigola, nel senso che non si vede i capelli, ma non si vede mai. Paigola è la paigola. Paigola è la paigola. Perfil. Questo qua bisogna stare attenti. Perfil è lo spigolo delle murette, delle scalini. E quando, quando è un rius espina, cioè, no? Cascchè, partirei batte conto il perfil, e allora è bu da vedere dopo, va? Persuth. Ca, bisogna anche stare attenti. Persuth non vuol dire impero asciutto, eh? perché le tante che per sud no per sulla è prosciutto per sud pezzo vabbè che scorreggia c'è il modo di dire anche fare un pezzo grande il culo c'è il passo più lungo della gamba ecco un po' petola petola è la cacola però essere una petola vuol dire essere un fastidio non proprio in arrugarte e essere invece nelle petole vuol dire essere nei casini, nei imbroili per ancora i potessi finire da chi perché con la p che ne è e questo vi lascio con la solita grammatica stavolta a feme il verbo fare è condizionale cioè io mezzo d'oro vete così magari per studiare allora ecco aspetta che inquadrim bene ecco far ma ha una condizione no? cioè mi faria ma ma devendo che gli accenti ti te fa ressi lui el faria noi faresem voi farese loro i faria se no mi faria se no ah alla prossima